Il principe William crede che il principe Harry sia stato risucchiato in un mondo alieno poiché il loro legame fraterno è potenzialmente irrisolvibile, ha affermato un esperto reale, la relazione un tempo stretta tra il principe William e il principe Harry è stata messa a dura prova per diversi anni, soprattutto da quando il duca e la duchessa di Sussex hanno deciso di dimettersi dallo studio nel 2020. Parlando di recente a GB News, l'esperto reale Charles R.A.E. ha discusso dei fratelli relazione ora tesa e i sentimenti di William nei confronti del fratello minore. Parlando con la conduttrice di GB News Nana Acua, R.A.E. ha dichiarato, The Mail sta parlando con più persone, prima del quarantesimo compleanno di William, e promettono più cose lunedì. Sembra che sia una buona lettura, e sta spiegando, sai, sì William sta crescendo la sua statura, non c'è dubbio su questo, ma sta anche evidenziando di nuovo la spaccatura tra lui e suo fratello. In realtà sta dicendo, o dicono i suoi amici, che William crede di essere risucchiato in un mondo alieno. La signora Acua ha detto, questo è esattamente quello che ho detto. A cui il signor R.A.E. ha risposto che probabilmente hai ragione, la spaccatura tra Harry e William è palpabile ora. C'è, non vedo alcun modo per risolverlo. L'esperto reale ha aggiunto che William è molto ferito e ferito dalle cose che il duca e la duchessa hanno espresso negli ultimi due anni, in particolare, nello spettacolo di Oprah Winfrey. Ha aggiunto, in particolare, le accuse razziste. Punto punto. Parlando in precedenza a 60 Minutes Australia, l'autrice reale Tina Brown ha discusso della pochissima comunicazione all'interno della relazione dei fratelli, ha detto, sfortunatamente, le ferite dell'intervista a Oprah, Winfrey, erano profonde, e poi, ovviamente, Harry ha continuato da allora. Ha anche parlato di un'altra delle bombe in sospeso di Harry, che è quella del suo prossimo libro di memorie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.